In occasione della giornata nazionale degli alberi di quest'anno, siamo andati a piantare alberi nel plesso scolastico di Colle Umberto, con le scuole Petri, Sabatini e Pascoli. Piantare un albero è un gesto nobile, di amore e gratitudine verso il pianeta, rafforza il legame con la terra. Sono loro a fornirci ossigeno e a sottrarre anidride carbonica. Ed oltre al fatto ornamentale, un albero svolge diverse funzioni importanti. Previene l'erosione del suolo, possono garantire una bella ombra nei parchi, quindi mitigazione del calore, possono contribuire ad aumentare il livello di biodiversità in città, ci possono dare anche bei frutti. Insomma, un bel gesto da insegnare proprio a loro, le nuove generazioni, i nostri bambini. Grazie a tutti.